Invocano l'intervento dell'assessore alle politiche ambientali del comune di Salerno e residenti di diversi quartieri salernitani da est a ovest della città. Infatti sono continue le segnalazioni di situazioni non più tollerabili, manutenzione che manca e quindi erba incolta che non viene tagliata da tempo e poi situazioni ben peggiori che potrebbero addirittura creare dei pericoli. In primo luogo in Viale delle Ginestre, nei pressi della chiesa di San Giuseppe Lavoratore, questo è lo stato dei marciapiedi. L'erba è talmente alta in alcuni punti da non consentire il passaggio sul marciapiede. I pedoni infatti, proprio come hanno denunciato i residenti della zona, sono costretti a proseguire in strada mettendo così a rischio la propria incolumità. In quella strada, come detto, sorge la chieda di San Giuseppe Lavoratore ed è quindi di grande passaggio per le auto ma anche delle persone che però, come detto, sono costretti allo slam-lom sui marciapiedi. Dalla parte opposta della città, invece, in via Ingrisani, nei pressi del parco del Mercatello, come sempre accade in questo periodo dell'anno, si inizia ad avvertire tra i residenti la preoccupazione per il torrente Mercatello, il letto del fiume, è completamente ostruito da alberi, vegetazione e soprattutto dai canneti. Per i residenti che ricordano di passate esondazioni del torrente, la situazione può essere rischiosa nel momento in cui arriveranno le prime piogge. Non soltanto la sicurezza, ma poi anche la questione igienica. Le condizioni, infatti, determinano il proliferare di insetti ed animali. Esattamente, questo è il fiume Mercatello, il torrente Mercatello, che poi prende il nome anche il parco del Mercatello. E all'interno del letto del fiume sono cresciute una serie di alberi, canneti, insomma. E' da circa, diciamo, una decina d'anni che non viene più pulito. Fate conto che all'inizio degli anni Ottanta questo fiume è sondato già due o tre volte. Quindi noi siamo preoccupati perché con le prime piogge, che quelle poi di fine estate, sono sempre quelle più pericolose, ci possiamo magari ritrovare nuovamente con questo disastro, insomma. Avete sollecitato l'amministrazione comunale, qualcuno, per poter, insomma, farli intervenire? Esattamente. Abbiamo sollecitato più volte l'assessorato all'ambiente per intervenire. Però questi sono i risultati. Ormai veramente si sono perse le tracce delle volte che abbiamo sollecitato. Però questa è la situazione che potete vedere, insomma, che non viene assolutamente... Le erbe non vengono tagliate, i canneti non vengono tolti. E quindi ci sta veramente un rischio serio per l'incolumità, insomma. Non potete immaginare che all'interno di un fiume, che in questo periodo il flusso d'acqua è molto, molto minimo, ovviamente siamo invasi dalle zanzare, per non dire anche ci sono topi e anche qualche serpente che abbiamo notato. Quindi è proprio un contesto che va risanato completamente, insomma. Sinceramente c'è stato detto più di una volta che sarebbero intervenuti, però ad oggi ancora niente. E noi tramite voi sollecitiamo nuovamente, ma non tanto per qualche cosa, perché se arriva una forte pioggia non sappiamo ovviamente che cosa può accadere.